Nessuna pluriclasse, Gropparello tira un sospiro di sollievo. Il Tar di Parma ha infatti accolto la domanda cautelare del comune che aveva impugnato il provvedimento con cui l'ufficio scolastico regionale aveva disposto la costituzione della pluriclasse per la prima e seconda media dell'istituto con un numero totale di 16 alunni. L'ufficio aveva infatti deciso che la scuola secondaria di primo grado del paese non avrebbe avuto una prima e una seconda classe da otto alunni ciascuna, bensì una pluriclasse che comprendeva gli alunni di due diverse annualità. Non sarà così. Con ordinanza del 31 agosto il Tar ha accolto la domanda cautelare dell'amministrazione e di un genitore sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e rinviando all'udienza di merito del prossimo 15 dicembre. Un grande successo per il comune ottenuto a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. Infatti in attesa della decisione sul merito della causa la pluriclasse non verrà costituita. In particolare i giudici amministrativi hanno ritenuto prevalente l'interesse di cui è portatore il comune tenuto conto delle criticità derivanti dalla conduzione di due classi accorpate. In particolare viene sottolineato infine dopo un lungo periodo di gestione dell'attività scolastica con modalità atipiche.